20 anni ed incinta. Il trapasso di Jessica, 20 anni ed incinta, fu buon per lei molto rapido. Camminava lungo la strada dello shopping, sul lato opposto ai negozi delle grandi firme, con la faccia girata per difendersi dalla pioggia pungente. Dopo la prima scossa di terremoto, se avesse alzato lo sguardo verso la sommità del grattacielo, avrebbe visto la finestra schizzare via dal 45esimo piano, seguita da un turbine di oggetti e di carte. Ma non guardò. Faceva il possibile per rimanere in equilibrio e impedire all'impermeabile di svolazzare. La lastra di vetro precipitò dritta verso la sua meta. A pochi metri dal suolo si inclinò leggermente e piombò sul marciapiede, tagliando in due la figuretta frettolosa di Jessica. Perché? Commento. Perché nel piano della coscienza era giunto il momento del trapasso di Jessica. Immaginiamo un tappeto con più strati, costituito dalla materia coscienziale. Tutti i piani di esistenza precedenti e successivi sono costituiti da diverse densità di materia, ossia da strati di vibrazioni. Quando il sentire di Jessica è giunto al punto del suo trapasso, Jessica muore, come era previsto dalla serie di fotogrammi della sua vita, congelata da sempre nell'eterno presente. Ma attenzione! Gli strati di vibrazioni sono semplicemente stati di coscienza successivi.